Proseguiamo con il Brunotte, per Paolo ci racconterà la lunga stagione estiva, ricca di eventi ed opportunità di divertimento. Ciao, è il tuo nome? Carmela. Carmela, hai finalmente decolato un altro sabato targato Blunotte, tu perché l'hai scelto? Perché è bello, ci si diverte. Te salutiamo Night in Day? Ciao, ciao, ciao. Finalmente è decolato un altro sabato targato Blunotte, tu perché l'hai scelto? Sì, perché ho voluto passare una serata divertente con i miei figli che si stanno divertendo in parte. Ci sono anche i tuoi bimbi? Sì. Ma di quanti anni? 16, 15 e 13. Le hai portate qui al Blunotte, quindi possiamo dire che il Blunotte è il locale ideale per tutta la famiglia. Sì. Invitami tutti gli amici di Night in Day qui al Blunotte. Certo che invito tutti gli amici, infatti sono anche con amici. Salutami Night in Day, basso. Teresa, il Blunotte organizza sempre serate esilaranti. Cosa pensi di questa splendida realtà? No, che è fantastico come locale. Ma tu sei di? Napoli. Come mai sei qui questa sera? Perché abbiamo 100 metri una casa e quindi veniamo qua molto spesso. Quindi domani mattina sarei spiaggia qui al Blunotte. Esattamente. Venite qui al Blunotte che sei fantastico. Salutiamo Night in Day, bacio. Questa sera perché hai scelto il Blunotte? Di solito sto sempre qua. Quindi lo conosci benissimo. Sì. Che cosa ti piace in modo particolare? Non solo la musica, la gente, il ritmo? Cosa ti piace di questo locale? Di tutto. Invece il tuo cantante preferito chi è? Rosario Miraggio. Quindi il tra agosto sarai qua. È normale. Ma ci vuoi cantare qualcosa di Rosario? Eh, le so tutte. Ok, cantami qualcosa. Sì, l'indogore, Denise, sulla mezza. Ok ragazzi, quindi sicuramente tu ci sarai qui il tra agosto. Invitiamo i nostri telespettatori al Blunotte. Tutti al Blunotte a vedere Rosario Miraggio. Salutiamo Night in Day. Ciao. Venite al Blunotte, è fantastico. Salutiamo Night in Day. Ciao. Temperature spaziali, bella musica, bella gente. Il Blunotte offre sempre il meglio, giusto Alessandro? Il meglio del divertimento ogni sabato a 360 gradi di fronte al mare. E naturalmente in console non potevi mancare tu con Pino Muzio DJ. Una coppiata vincente per questa estate. Alessandro, perché sciogliere il Blunotte? Tutti coloro che il sabato sera non confermano questo locale, cosa si stanno perdendo? Chi non è venuto ancora si sta perdendo il vero divertimento dell'estate. Vi aspettiamo tutti sabato prossimo, Marcello Fuentas per tutte le donne. E prossimamente ancora appuntamenti, ancora ospiti. Venite a trovarci. Alessandro, ti ringrazio. Salutiamo Night in Day. Salutiamo Night in Day. Alla prossima. Bacio. In console, spumeggiante come sempre, Pino Muzio DJ bentornato. Grazie tesoro. Tutto bene a te? Guarda Alblunotte, si balla alla grande, ma tutto questo grazie a te e alla tua musica. Grazie. Penso che me lo merdo un pochettino, però la gente risponde bene. Io so che devo lasciarti allora un grosso bacio agli amici di Night in Day Television. Ciao, alla prossima. Carpe Diem, letteralmente cogli il giorno, normalmente cogli l'attimo. Una delle filosofie di vita più influenti della storia, ma questa è anche la filosofia del Blunotte. In questo modo saluto il caro Pierpaolo, buonasera. Buonasera. Orazio diceva, cogli l'attimo, ossia vivi alla giornata. Noi al Blunotte diciamo, cogli la notte, vieni al Blunotte, là dove il cielo è sempre più blu. Ma vieni al Blunotte per trascorrere insieme un'altra magica notte sotto le stelle. Dai, Pierpaolo. Oggi è un altro sabato all'insegna dei numeri e del divertimento. Di nuovo superate le mille persone, tutta bella gente, perché dovete sapere che comunque ne mandiamo a casa dalle 100 alle 200 persone. Se si presentano con avviamenti, non idoneo, senza coppia, basta venire diciamo abbastanza bene i vestiti. Non bisogna esagerare perché in questo locale ci si diverte. I nostri telespettatori lo vedono dalle immagini perché il Blunotte è un locale sempre colmo di gente. Sabato, musica dal vivo, revival, discoteca. Domenica, liscio e discoteca. Sabato questo, 12 luglio, Marcello Fuentes, il tonalista più bello e corteggiato di uomini e donne. Ma ne abbiamo avuto anche Christian che altrettanto era, voglio dire, l'idolo di tutte le ragazzine. Li abbiamo abituati bene ai nostri clienti. Ogni settimana una novità. 3 agosto, Rosario Miraggio. Poi 10 agosto, Marco Cristi. 14 agosto, vigili di Ferragosto. 15 agosto, Ferragosto. Con schiuma party e fuochi a mare. Cosa chiedere di più? Ma quindi per Paolo, ecco il Blunotte provvederà a rianimare quella che sarà l'estate di tutti quanti. Quindi tutto il mese di agosto il Blunotte è disponibile soprattutto per festeggiare i loro eventi. Diciamo che a luglio abbiamo dato la precedenza alle feste private e ce ne sono state tante. E ad agosto cosa accadrà? Moda, il 21 luglio e in poi, viceversa. Siamo aperti quasi tutti i giorni per la discoteca, per eventi di discoteca e le feste private sono diventate più marginali. Comunque, siamo sempre qui per ogni genere di festa privata. Ferragosto, diamo l'info e dove si trova il Blunotte. 335-6246-017, enigmatici.it, Litorania, Magazzeno, Ponte Cagnano, Salerno. Allora, salutami i telespettatori. Come? In che modo? Dicendo che il cielo è sempre più blu. E grazie a voi che siete la nostra energia e la nostra forza.